Ciao a tutti guerrieri e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Frost e oggi ci ritroviamo qui su Dragon Ball Z Final Stand e ci troviamo qui alla Capsule Corporation, perché innanzitutto sono arrivato al livello 200 e mi potenzio ancora una volta il melee damage vi prego ditemi nei commenti se sto facendo le stats come si deve, perché sono poco convinto ma intanto sono sempre stats quindi si va bene dai poi ci penserò casomai farò un reset oppure vedrò, vedrò di informarmi meglio sulle stats Comunque, ci troviamo qui alla Capsule Corporation, perché arrivati al livello 200 si va nello spazio e come si va nello spazio? Cliccando qui, su questa stonavicella Earth Space Level 200 Required, ok e andiamo nello spazio Allora raga, lo spazio, il posto più noioso dove farmare eh sì, dico noioso perché è noiosissimo, veramente mi sono spoilerato molte cose a riguardo, ho letto e riletto alcune cose e il luogo per iniziare di più in questo posto è il pianeta dove c'è Broly ora, a trovarlo sto pianeta a trovarlo raga sto pianeta ehm, allora tutti questi pianeti che vedete qua sono per le quest però due sono particolari uno dove c'è Broly che potrete fare solo una volta e quando prestigiate cioè nel senso lo potete fare mo' e poi la prossima volta lo potete rifare quando avrete fatto il prestige poi l'altro è delle missioni giornaliere e di Beerus quindi io o trovo quello di Broly o trovo quello di Beerus faccio quello che mi capita prima allora, ok, sta il pianeta eccolo qua, quello di Broly raga questo è il pianeta di Broly ora, noi ci dirigiamo a massima velocità e vi dico fin da subito che ci morirò un sacco ma un sacco di quelle volte perché sono da solo e Broly ah no, aspettate, forse non sono del tutto da solo lo sta a fare pure questo lameccano qua livello 223 va bene, dai, forse ci vengono in aiuto raga io lo aiuto e spero che lui aiuta me prendiamo la missione da questo tizio qua e la missione di Broly raga vi dà tutta questa esperienza cioè vedete lì quanta esperienza c'è e il miglior modo per prenderla tutta sarebbe anche con l'Ex per 2 l'Ex per 2 però non c'ho abbastanza Robux quindi faremo come qualsiasi altro player normale senza Robux farmeremo e io ora sono Super Saiyan 3 quindi raga parte la velocizzazione vi dico solo che non taglierò così vedrete quante volte ci muoio e dà tutta la vita questo coso raga posso solo sperare che si bugga veramente speriamo che si bugga no raga cioè vi rendete conto quanto è forte urla pure Kakarot io non sono Kakarot e non ho le Kakarot mi dispiace Broly ci metterò i secoli raga ci metterò i secoli veramente i secoli anzi sapete che vi dico vado a fare prima quella di Beerus oppure provo a fare ancora Broly bella scelta va bene per ora continuo con Broly se vedo che va per le lunghe andiamo da Beerus raga purtroppo sono da solo e aiuto veramente aiuto per le lunghe PRAISO SEGVA SOUL Grazie a tutti 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 Grazie a tutti